L'Expo ha portato di mano anche a Cremona grazie ad una sala pubblica messa a disposizione a spazio comune in piazza Stradivari, un luogo dove reperire le informazioni necessarie sull'Expo, su tutti gli eventi in calendario e sulla città. L'intento è quello di favorire la promozione del territorio e delle sue iniziative. Milano è la capitale ideale, morale, economica di una grande regione che se si limitasse però a Milano forse non sarebbe così grande. Quindi noi continuiamo a pensare che l'Expo dovrà riguardare tutti. I territori hanno bisogno di spiegare ai tanti cittadini, soprattutto stranieri, che vengono a Milano in questo periodo il perché non solo a Milano e queste iniziative vanno in questa direzione. Lo spazio è dedicato per questi mesi fino ad ottobre ad Expo. L'idea è quella di trovare qua per tutti i cittadini cremonesi e turisti informazioni sia sull'attività sotto il logo Expo di Cremona sia anche di Milano. La possibilità anche con la postazione informatica di spazio comune eventualmente di avere informazioni, stampare biglietti o altre indicazioni. Quindi vogliamo che sia uno spazio partecipato e vissuto dove un cittadino può prendere questo tipo di informazioni. Abbiamo anche un'altra piccola iniziativa che crescerà nei mesi che è quello di uno spazio dedicato a conoscere Cremona. Quindi stiamo raccogliendo tutti i libri sulla città, anche che non sono più in ristampe, in modo tale che una persona può consultare o informarsi sedendosi comodamente all'interno dello spazio comune. Di volta in volta arricchiremo sia con le iniziative proposte dal comune, ma anche, devo dire, dal territorio, perché in questi mesi preparatori tante associazioni hanno lavorato sulle tematiche di Expo. Ci sarà anche la festa del volontariato il 20 settembre con il tema dedicato all'Expo e ai temi del cibo, della salute e del diritto alla vita. Quindi Exponiamoci sarà lo slogan della festa su cui stiamo lavorando.